fata fatina apri la porticina incomincia così l'avventura dei bambini nella casa delle fiabe villa farsetti a santa maria di sala le enormi sale di questo palazzo sembrano fatte apposta per ospitare personaggi fantastici come la bella e la bestia la ballerina di carta e il il pifferaio magico e la regina dei ghiacci in questo periodo natalizio la proloco di santa maria di sala ha pensato di regalare ai bambini l'esperienza di un vero e proprio viaggio dentro le fiabe compreso il brivido di finire nella gabbia della strega l'appuntamento è per il 26 e il 29 dicembre e poi il 6 gennaio dalle 14 alle 19 tutte le avventure si concluderanno in allegria con una bella tazza di cioccolata calda la casa delle fiabe e il giardino è cantato ci siamo ritrovati anche quest'anno a santa maria di sala in villa farsetti e abbiamo convolto tantissimi bambini quest'anno ci sono delle nuovissime fiabe la bella e la bestia ansel e il gretel pelle d'asino il gatto con gli stivali pifferaio magico abbiamo coinvolto più di 12.500 bambini nel nostro territorio di santa maria di sala del milanese della riviera del brenta e nel padovano per il 2014 stiamo preparando dei nuovi eventi e un arrivederci qui in villa farsetti vi aspetto numerosi